Cappuccino Nice! Direttamente da Swag Allora, ora vi spiego due o tre cose Un saluto ai ragazzi del giorno Bello Figgo è stato chiamato per venire a ricevere un premio che ha meritato, tutti sanno che è forte lui fa le robe sue divertenti solo che là non c'erano i nostri guardie del corpo allora le mie guardie del corpo erano fighe quello di Bello Figgo stavano a mangiare pasta con tono quando siamo andati là un giorno non c'era nessuno che ci proteggeva quindi questi ragazzi tutti ci sono... cioè, ci hanno... hai capito? venuti addosso, amico non è una roba da piccolo una roba pericolosa tutti erano addosso a noi ha capito Bello Figgo ha capito Bello Figgo è una cosa... io mi sono svegliato che mi avevano sollevato in aria nus nus gridevano tutti nus pasta con tono, gridevano i nomini ma vi spiego se uno chiama Bello Figgo Don Cappuccino voi dovete capire che una cosa... noi facevamo roba che piace capisci? quindi le guardie del corpo dovete avere voi e noi aggiungiamo anche le nostre capito? cioè, non potete fare una cosa senza guardie del corpo capisci? se no... non ci fanno male i ragazzi vogliono le foto vogliono divertirsi anche perchè la roba che facciamo noi è uguale ai giovani in classe in classe che non c'è insegnante si è presente quando sei in classe l'insegnante esce è bordello amico è uguale è la stessa cosa ecco perchè la nostra cosa piace fa divertire fai casino bordello amico la prossima volta organizzatevi meglio tacici vostri un imamo comunque è andato bene altri lì sono arriva